Pronto? Ah, ciao. Sì, un momento. Eh, Simo, gli ho detto di non chiamare questo numero. Ti ho detto di non chiamare questo numero. Ciao Lee, mi dispiace, devo parlarti delle date. Sei pieno per sei mesi. Ti ho già detto quali date avrei fatto. Non lavoro dopo il giorno del ringraziamento durante le vacanze e soprattutto adesso. Ma puoi guadagnare il doppio durante le feste. Facci dopo in vacanza. Simo, io non voglio essere il più ricco e famoso pianista del cimitero. Puoi scordarti? No, decisamente no, stai già lavorando troppo. Lee, passami Scott, devo farvi una domanda. Ciao, Simo. Ciao, Scott. Perché non ti fai un po' i cazzi tuoi? Adesso ripassami Lee. No, non puoi venire a cena domani sera. Faccio il maiale.